bella a tutti i miei slime qui al bentornati nel mio canale eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ascoltare movie di rondo da sosa fit central si non vorrei avere il cappello in questa maniera anche perché sembro più mongoloide di quanto pensassi però mi sono accorto nei video che i capelli fanno troppe ombre sulla mia face e questa è una cosa che non mi piace perché tipo a questa altezza non mi si vede praticamente nulla quindi le alternative che avevo erano tagliarmi capelli ma onestamente mi piacciono così come sono farmi il codino ma non so quanto posso essere guardabile il frontino non ne parliamo il cappello portato così mi sembrava la cosa più decente ma mi sto accorgendo neanche così troppo comunque cercherò una soluzione quella luce ha deciso di spegnersi raga mo la riaccendo ma sto facendo così da prima non so che sia successo se si spegne di nuovo non è colpa mia o ora possiamo parlare un po del video chi mi conosce lo sa chi ha visto la reaction a giovane rondo ancora di più rondo da sosa non è assolutamente il mio artista preferito né tanto meno lo apprezzo e ma allora perché stai facendo questa reaction lo fai solo per le view no devo dire che la notizia di questa collaborazione con central si non dico che mi ha messo hype ma mi incuriosito mi sono detto vabbè questa l'ascolterò a dare sta faccia poi in tutta sincerità da quando ho questo canale io se non react una canzone finisco per non ascoltarla quindi mi sono detto farò la reaction in motale che l'ascolterò per forza questo pezzo comunque sia mi ha incuriosito un po di più rispetto agli altri perché è fit central si come dicevo ad inizio video è un inglese sta sulla wave uk drill e sinceramente non conosco molto di lui perché in generale ammetto di essere un po ignorante in materia uk drill è un mondo in cui non ancora mi sono avventurato appieno anzi colgo l'occasione per dirvi che se conoscete artisti brani o album uk drill da ascoltare scrivetemeli nei commenti in modo tale che avrò qualcosa da cui partire ho ascoltato molto poco più che altro la cosa che mi frena di più è la pronuncia io apprezzo molto di più a livello di sound quella americana però questo è un fatto mio cioè mi piace proprio come suona rondo appunto è stato in inghilterra proprio un mese fa forse qualche settimana forse un mese e mezzo non ricordo con esattezza aveva già spolerato di essere con central si è uscita questa canzone movie che è proprio un singolo di rondo da sosa non so perché ma pensavo fosse una canzone di central si è il fit rondo comunque la produzione è stata affidata a nko io direi che possiamo procedere con l'ascolto sono ancora qua vivi via se brillano come luci della città fumo bag la mia sherry nel bag partano a si bitch i'm rich se parli male rintraccio l'indirizzo e p senza vba sono in casa tua faccio gta elite vivi vivo ancora nelle popolari infatti ho più scarpe che mette i quadri o mi vengono in casa del tuo papi ricorda al punto che rubiamo i quadri I'm in a V.O. with that I'm sniffing a bit and this so I can't get grip I just lost this bitch I came too quick I'm way so slim and I was too fit Allora rondo non mi ha fatto cagare il che è già un passo avanti enorme e chi mi conosce ripeto lo sa il ritornello mi è sembrato un po' basic però alla fine suona bene quindi ci sta la strofa di rondo è ok mi limito a dire questo non male rispetto ad altre canzoni che ho sentito veramente non male soprattutto anche in queste settimane o mesi sono usciti diversi snippet di rondo e vi giuro che mi hanno fatto uno più schifo dell'altro però ripeto questa strofa non mi è dispiaciuta poi parte central sì che mi è piaciuto di più nel pezzo ma credo che sia solo per la lingua nel senso che purtroppo il mio orecchio è ormai abituato più ad ascoltare roba americano comunque in inglese e di conseguenza vado più per quelle sonorità però anche qui ve lo giuro la cadenza inglese non mi piace non lo so non mi prende la definirei quasi un po' più fredda e distaccata rispetto a quella americana anche un po' meno slang forse sarà questione di gusti sicuramente però non mi prende la produzione tutto sommato è ok carina in linea rispetto agli altri beat uk drill che poi sono un genere di beat che si assomigliano molto tra di loro quindi effettivamente è difficile riconoscere un beat che spacca da uno che suona un po' uguale agli altri io sono il primo che quando da addosso ci va pesante in tutti i sensi però c'è da dire anche che se l'italia sta acquisendo un minimo di rilevanza all'estero che sia europa o america in parte anche grazie a rondo che in questi mesi è andato viral praticamente su varie pagine di meme e non solo quindi se c'è una cosa per cui sono contento di rondo è questa è quasi più grazie a lui che grazie ad altri esponenti come sfera o capo plaza che comunque hanno fatto tantissimo per il rap italiano però credo che se tu vai da una persona estera e gli chiedi quali artisti conosce in italia è più probabile che ti dica rondo da sosa che altri e vorrei leggere il testo se c'è vediamo se lo troviamo sono ancora qua vivi esse brillano come luci della città fumo back la mia show di nel back porta uno stick ora sono rich quindi uso dei jeans vabbè poi di nuovo ripete questa roba però ecco ecco ora che sto leggendo il testo però mi rendo conto anche del fatto che è un po basic infatti ritornello non mi aveva convinto perché essenzialmente sono cose che si sentono ovunque la mia show di stick porta un back nel back la gang kit e murt baffan mo però vabbè ripeto suonava bene quindi ci stava l'importante di un ritornello alla fine che suoni bene bitch am rich se parli male rintraccio l'indirizzo ip senza vp a sono in casa tua faccio il gta lit movie lascio ste quattro pussy essa stomaco vuoto tu sei un ops un nemico mi odi non se niente di nuovo vivo ancora nelle popolari infatti ho più scarpe che metri quadri home invasion in casa del tuo papi ricco a tal punto che rubiamo i quadri e questa cosa non l'ho capito cioè che significa ricco a tal punto che rubiamo i quadri se sei ricco non c'è bisogno di rubare però va bene flow shotgun autobun la tua hose mi diptrotta facetime faccio face to face come da baby e stanna for time qua c'è scritto sunna tra l'altro vabbè forse era meglio che non leggevo il testo mi sarebbe piaciuta di più però confermo un po tutto quello che ho detto nel corso del video è un pezzo che ci sta comunque sia questo era solamente il mio parere voi cosa ne pensate scrivetemelo qui sotto nei commenti il pezzo vi è piaciuto avrete preferito rondo o central c vi ricordo anche di scrivermi qualche nome di rapper uk drill o album o canzoni se le conoscete nel caso in cui il video vi fosse piaciuto lasciate un mi piace se non lo siete iscrivetevi al canale e se lo siete già attivate la campanellina per non perdervi altre reaction e altri video condividete questo video con quanta più gente volete e potete noi ci vediamo ad un prossimo slat